Il turismo piemontese sta bene, cresce, è in salute e continua a diventare questa economia che dà tanti posti di lavoro soprattutto ai nostri giovani. Lo dimostrano i dati del primo semestre del 2024 che certificano come i turisti aumentino nel numero e nella durata della loro vacanza nella nostra regione. Questo è un punto di forza su cui continuare ad investire ed è la priorità che la regione Piemonte si è posta proprio per garantire un futuro di ricchezza nuovo al nostro Piemonte.